tutti noi abbiamo superato la fase 1 dopo averla affrontata chiudendoci in casa riunendoci nella grande famiglia di chat 56 all'inizio lo ha fatto anche lui lamberto giorgi io sto a casa ma i capelli crescono due foglie di insalata una mossarellina e il mio pranzo è finito qua buonanotte a tutto il mondo io adesso vado a dormire ma prima di prendere sonno io leggo mandava video mentre era nella sua tenuta buongiorno buongiorno amici di chat 56 oggi la mia giornata comincia all'aperto vi faccio vedere il mio capolavoro guardate che quercia l'ho piantata io 18 anni fa sembrava tutto sotto controllo fino a quando però vado un attimo dai cani vado il richiamo del tubo catodico è stato troppo forte ma beh tu che ci fai qua ma come che ci faccio qua non ne posso più non ne posso più voglio andare in televisione voglio vedere le telecamere voglio andare in diretta ne so scocciato voglio ricominciare non ne posso più viva le telecamere voglio la diretta vado in diretta vado vado abbiamo visto attraverso i video l'amberto giorgi infrangere le regole che lo volevano a casa recandosi negli studi della roma 56 la sua vera casa dormi qui non se ne va più dopo averlo visto dormire nei camerini incatenato ai mezzi che tutti fine settimana gli permettono di andare in onda cosa che da due mesi non fa più ve lo posso dire ve lo dico con tutto il cuore quanto mi mancate non vedo l'ora di ritornare l'abbiamo chiesto invocare aiuto cercare un tecnico che accendesse la telecamera il suo vero congiunto quanto sei bella quanto ti voglio bene quanto amo le telecamere io non me ne vado mo l'abbraccio eccola telecamera mia eccola l'abbraccio forte 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 voglio tornare presto con voi ma io non me ne vado io rimango qua sai che faccio rimango qua rimango qua ma non c'è nessuno ma dove siete via libra non si può andare avanti così ma c'è qualcuno c'è qualcuno ma anche qui non c'è nessuno non c'è nessuno oh ma c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno ma dov'è 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 oh ma non c'è nessuno non c'è nessuno ma dove siete aiuto aiuto avete capito che situazione si sta creando nei corridoi di teneroma 56 avete capito che condizioni è mentali l'amberto giorgi ha creato il panico effetto shining jacopo 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 ma dove sei jacopo jacopo ma che sei sordo è sordo è arrivato il momento di detonarlo di trovare la strada germa di limitarlo di bloccato non se ne può più le menti pensanti di tele roma alberto jacopo e manuele i tecnici brainstorming riunione necessaria un summit per detonare l'amberto giorgi stai a distanza al metro non lo so si lo dico inventiamoci qualcosa troviamo una soluzione io l'amberto che gira qui non riusciamo a beccarlo se sa dove dorme dove va bagno dove mangia non si può fare no no adesso ci dobbiamo inventare qualcosa assolutamente perché così non si può vivere cioè non si riesce a lavorare tranquilli non si può stare passando una giornata normale lavoro serena perché altrimenti questo altro che un virus peggio peggio di un virus peggio di un virus troviamo una soluzione facciamo qualcosa perché questa storia di quello che ho trovato una televisione io non riesco a vivere non me lo dire jacopo borgo cioè non si può andare avanti così questo vuole andare per forza in diretta se non ci inventiamo qualcosa non ce lo scordiamo più di dosso vivere con questo incubo nella struttura che poi tra l'altro ci cerca è angosciante non ce la faccio più nemmeno io ti prego vi prego inventatevi qualcosa io c'ho da fare inventate tirate fuori un'idea fermi tutti ragazzi c'ho un'idea dai dimogli che va in onda giovedì sei proprio un genio inventamosi una trasmissione giovedì va bene così genio 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 lamberto lamberto grande notizia torni in diretta giovedì prossimo dai ho già risposto avete capito si stremati io non so come abbiano fatto alberto jacopo e manuele stremati uno stratagella per far credere all'alberto di essere in diretta non essendo in diretta una supercazzola avanti bella jacopo oh buono io mi senti ma poi per questa cosa dell'amberto ma un logo una grafica uno stile mi hai fatto qualcosa mi hai preparato qualcosa faccio ma con tutto lo facciamo da fare ma ma in questo momento a fare la grafica dell'amberto la sigla sapremo che interessa andiamo via tutte le sede dopo mezzanotte qua dalla mattina no no ma adesso posso stare pensato a l'amberto vabbè io faccio veramente i complimenti perché ecco sono un bagno di sudore sono stremato e tutto questo mi sento pure un po confuso abberto giorgi è passato dalla fase 1 alla fase 2 o vabbè scusa ma per l'amberto ma che gli stiamo a preparare qualcosa che stai fanno a scaletto perché non so più che dire ma ma c'è una mica che ma che devo fare una trasmissione io sto a fare il sesto stiamo incagliati come pochi ma mica pensare davvero che facciamo una trasmissione era per stanarlo ha risposto subito sti cavoli cioè non è che davvero facciamo una trasmissione che gli facciamo di a l'amberto in una trasmissione dai su perdiamo tempo e forza a lavorare dai lascia stare meno male io penso che la devono far per davvero sta diretta non diretta tipo cotone con cotone lana fuori andrà in diretta o no volgo scusa io ho già sei chiamate di amberto giorgi a me mi ha chiamato 12 volte lascia stare ma non è che pensare davvero che fa una trasmissione per me per me lui pensa veramente di fare la trasmissione ma io sto in diretta e sono differita ma io come mi chiamo su altre cinque chiamate di lamberto ma non è possibile ma come devo fare oh michelux ma lui senti un po ma che hai preparato le luci per questa diretta di lamberto la diretta di lamberto eh sì dobbiamo fare la diretta ma di chi tutto sto posto da sanificare ma chi se ne frega di che qui lamberto scusami tanto eh basta c'hai ragione vichè no no è possibile basta oh basta cioè no ma è possibile oh C'è 27 chiamate che mi ha fatto questo, ma che è matto! Ma non voglio di ammere, io ho 18 chiamate e ho dovuto silenziare e mia moglie si è incavolata perché no, non mi ha risposto! Ma che ammigli dici a me? Non lo metto a carità! Ho l'idea di destra! No, ma se no! Ma se no! Ma se no! Ma se no! Guarda, guarda, guarda qua la risolta, eh! Lamberto, guarda, non mi chiamare a me che sono indaffarato, hai da fare le cose serissime, la scaletta, tutto il resto ce l'ha Jacopo! Ma ché sei scello? Dai Jacopo! Chiama Jacopo! Stai, dai! Chiama Jacopo! Chiama Jacopo! Chiama Jacopo! Chiama Jacopo! Bene amici nel cacchio! Eccomi, Eccomi! Lambertone, sto provando di lavorare su una cosa per te! Dimmela! Come lo so! Come lo so Alberto? Mi ha detto chiamo Jacopo! Chiamo Jacopo! C'è la scaletta, fa tutto lui! Eh, se me lo dicevi cinque minuti fa era a posto, ti ho già mandato tutto con il SuperTransfer, se tu vai sul supertransfer.com e lì c'hai tutto, tu intanto adesso scagli sul supertransfer.com, da tutta la scaletta che c'è tutto dettagliose, poi con quella in mano dopo che tu l'hai praticamente scannerizzata e poi chiami Borgognone che così almeno fa l'esamina e domani facciamo la prova. Ecco, ecco, va bene. E' tutto sul sito, ti ho mandato tutto su SuperTransfer.com Ecco, ecco, allora come si chiama sta cosa? Antani, 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 Antani è la sua scazzola.com. Scansione, scannerizzazione con il SuperBitMap e poi Borgognone manda tutto e poi facciamo le prove. Chiama subito Borgognone, chiama Borgognone, ferma adesso che adesso sta a pisciare. Ok? Ok, ciao Lambi, ciao. Ci devo intervendere? Oh Lambi, come stai? Ecco, bene un leone, un rinoceronte, un rinoceronte. Me l'ha detto adesso Jacopo. Ah, ancora non ce l'hai? Oh, abbiamo svoltato, è un giorno che non lo sento più. C'è cazzo. E' convinto di andare in diretta con la cosa di, com'era, scari da Antani. C'è cascato con tutte le scappole. Quintrust.com, quelle cose così, c'è cascato proprio. Quello stava impazzendo con la telematica. Eccovi, eccovi ragazzi. Andate a fare la diretta, io sono pronto per la diretta. Stai indietro, stai indietro, 5 metri, 5 metri di distanza, è la distanza sociale. 1, 2, 3, 4, 5, ecco, voglio fare la diretta. Sì, va bene, vai in diretta, vai, vai in diretta. Voglio fare la diretta, va del studio, seguitemi, seguitemi, la diretta, la diretta, ecco, l'arriva. Ma non la possiamo facerlo, non la vedo. Questo ce crede, che fanno? Che fanno? Non da perdare. Vabbè, come fanno? Fanno finta, accendiamo le luci in regia e fanno finta che stanno l'oltre. O lasciamo un po' l'oltre. O buttate l'oltre così? Ma buttate l'oltre così. Ma come se dà la linea da Piffero? Piffero, dacce la linea, vai. Piffero, dacce la linea. Ok. Non è in campo? L'avverto Giorgi Show. Regia. Grazie. 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 Grazie a tutti